La Lami CP1 è una penna sottile, costituita da un cilindro di alluminio anodizzato nero, opaco e ruvido, senza nessuna decorazione, con una clip a molla in acciaio lucido, di forma semplice e lineare. La sezione in plastica scura consente una presa sicura grazie alle scanalature riportate su di essa. Il tappo, nello stesso materiale del corpo, il cappuccio, si chiude a incastro in maniera molto precisa. Il caricamento è a cartuccia converter. La penna è davvero leggera e perfettamente equilibrata. Si impugna molto comodamente, nonostante sia alquanto sottile. Viene dotata, visto anche il prezzo molto contenuto, dal pennino in acciaio in uso su tutte le penne di fascia bassa dell'azienda, a partire dalla Safari. Come per tutte le altre Lami, nonostante si tratti di una produzione tutto sommato economica, le rifiniture sono eccellenti e la qualità della lavorazione è evidente. L'esperienza di scrittura, e non potrebbe essere altrimenti, essendo identici alimentatore e pennino, è la stessa delle altre Lami della stessa fascia. Si tratta di penne che scrivono molto bene, con flusso equilibrato e senza salti, anche nella scrittura veloce. Il pennino è rigido, con tratto troppo abbondante per un medio rispetto alle stilografiche giapponesi e la cui scorrevolezza, per buona, resta nettamente inferiore a quella che si può trovare sulle sorelle orientali. Una differenza di scorrevolezza che si riduce drasticamente con i pennini nelle misure superiori. In definitiva, si tratta di una penna che ha uno stile personale, che non sfigura in nessun ambiente, è leggera, è manoggevole e sa mantenere quello che promette. Specie, se non siete fissati con gli extrafini, Lami, una stilografica comodissima compagna nelle proprie sezioni di scrittura. Ottimo il suo rapporto qualità-prezzo. Lami, CP1, una stilografica da consigliare. Il suo maestro, chi l'ha disegnata, chi l'ha progettata, è Gerda Alfred Müller, nato a Francoforte nel 1932. Le sue opere degne di nota includono anche altri prodotti della Lami, incluso la Lami 2000. Che altro dirvi? Ragazzi, un abbraccio forte e ci sentiamo la prossima volta. Grazie a tutti.